La cosa che non bisogna fare nel quotidiano è lamentarsi, sennò abitano nervosamente, perciò non mi sono lamentato, ho osservato semplicemente che non siamo stati sicuramente agevolati, ma non mi sono lamentato assolutamente. Quanto fa male vedere Matri giocare bene con la squadra? Molto, molto, anche se giochasse male fa male molto. Matri è un ragazzo che ci siamo tirati su noi, fa male per giocare con la squadra, sicuramente. Qual è l'altro prossimo grande, non acquisto, ma vendita di estiva del Cagliari? Marchetti, ma sì, se non facciamo stare vendiamo tutti, sto scherzando. Marchetti è a Cagliari e ogni volta che lo vanno a allenarsi penso che sia un peccato, che non si possa giocare con due forti. Perché non è andato al giro? A questo ora è di chiedere a lui, ma sicuramente non aveva credito il fatto che avessero impiegato su Storari, è un ragazzo molto orgoglioso e pieno di dignità, perciò mi ammesso di poter condividere la sua scelta. Tu parla anche del Milan, è vero? Parla, mi puoi parlarti io sinceramente, ho visto gli archivi di Adriano, non mi parla. Grazie.